La raccolta della saliva del campione salivare nelle scuole verrà assistita da operatori sanitari che accompagneranno i bambini in questa raccolta all'utilizzo di questo dispositivo che si chiama Salivet che è composto da due provette, una dentro l'altra e un tamponcino di cotone che è un prodotto non tossico e naturale che viene introdotto nel cavo orale del bambino, il bambino lo mantiene in bocca senza masticare possibilmente in modo che si impregni di saliva per almeno 1-2 minuti. La raccolta deve essere effettuata lontano dai pasti e il bambino non deve neanche aver assunto bevande se non acqua. Dopo 1-2 minuti viene estratto il tamponcino dal cavo orale del bambino, viene rimesso nella provetta interna, viene tappata bene, se inavvertitamente l'esterno del contenitore è stato contaminato si può disinfettare col disinfettante, quindi la provetta etichettata e inviata al laboratorio il prima possibile in contenitori refrigerati. L'operatore che esegue queste, che assiste i bambini nella raccolta ovviamente deve essere munito di tutti i DPI che sono previsti per la manipolazione dei campioni che possono essere infetti da SARS-CoV-2. Grazie.